Ciao ragazzi, vi annuncio sul mio canale! Oggi pensiamo sopra col trattore alle cose, ai miei giocattoli Guardate il morto è pieno prima sopra la rana Non si è spaccata Grazie Grazie. 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 Non si sono rotte? Anche queste non si rompono. Sono gommosi e non si rompono. Per questo non si rompono. Ciao ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao.